Brava Elettra, dai! Vediamo l'impressione di nuovo? Ecco qua, perfetto, dai. Ok, dai bambino subito, il pediatra l'hai chiamato? Il pediatra anestesista? Sì, sì, cambiamo. Lo mettiamo, e poi qua, qua su, qua su, sulla pancia. Che succede? Quanto c'è? Tutto bene? Tu sei la stessa? Sì, eh sì, ma hai chiamato. Stai, sta perdendo. Li mettiamo, la venta, il sito cina, metti 20 unità. Li chiamate un altro spettrico a qualcuno? Sì. Il numero decontato, mettiamo il sintocino. Intanto massigiamolo. Eh sì. Bambino con l'interno.